«Mister, le sensazioni per questo primo test?» «Bene, bene perché so il volume di lavoro che stiamo facendo, quindi hanno risposto per quello che in questo momento lo stato fisico gli consente e sono contento perché hanno profuso grande impegno, si stanno cercando di amalgamare, di trovare quel filo conduttore che in questo momento non può essere nella maniera più assoluta il nostro, però ho visto tanta applicazione, tanta volontà e soprattutto delle buone giocate che mi fanno ben sperare, è un gruppo che sta lavorando molto bene». «Ecco, si aspetta qualcosa in più dai prossimi test, perché questo è un po' indicativo, è il primo, carichi di lavoro notevoli, in Zemania a memoria, lo possiamo dire, mister?» «Siamo a ritiro, stiamo preparando la stagione, stiamo costruendo qualcosa, non siamo venuti qua a pettinare le bambole, siamo andati a lavorare e so che questo è un momento molto delicato e importante, ribadisco che siamo da una settimana insieme, quindi ci sono carichi importanti, andremo sempre a guadagnare intensità man mano finiamo il micro ciclo di lavoro e tutto procede bene». «Ecco ha chiesto e ottenuto un prolungamento del ritiro, perché vuole fare lavorare i ragazzi in alta quota è necessario?» «Noi abbiamo visto anche qua, siamo a 1200 metri, che c'è un caldo troppo caldo, troppo importante come caldo, pensa giù che è quello che potrebbe esserci e poi abbiamo i disagi in questo momento di avere tutto pronto per poter lavorare bene e i ritiri solitamente si fanno in altura, quindi il Presidente mi ha accontentato, per questo lo ringrazio e noi avremo un modo di proseguire la nostra preparazione che ci permetta di valutare, di scremare alcune situazioni e certamente lavorare con una situazione di freschezza ci evitiamo». «Si aspetta qualche altro arrivo da un momento all'altro?» «Bah è chiaro che questa è una squadra ancora incompleta, però per quelli che sono gli under, che abbiamo fatto questo primo inizio di lavoro, una costruzione di organigramma agli under e adesso mi aspetto tre pezzi importanti di cui noi stiamo lavorando, stiamo cercando di portarli a casa, anche se il mercato non è facile, ma ce lo faremo perché ho l'ausilio del Presidente o all'ausilio del Direttore e per completare questo organigramma almeno tre pezzi importanti ci vogliono».